buongiorno ma il martedì bellissimo martedì splendido caffè ottima marmellata che vuoi di più della vita un lucano ma io non bevo pochissimo l'incipit che mi viene in mente oggi è stanotte ho pensato tanto a un libro che della mia gioventù tardo adolescenza 18 19 anni scritto da albert einstein che si intitola come io vedo il mondo e lui c'era un po di autobiografia ma c'era tanto pensiero c'era della filosofia e lui in qualche modo faceva presente come la la scienza non possa essere ritenuta un dogma come la scienza non possa essere ritenuta perfetta come la scienza debba anche tenere conto dell'evoluzione sociale quasi dell'antropologia sostanzialmente diceva che la scienza e scienza nel momento in cui non si considera fissa non si considera un dogma cosa che purtroppo non sta più succedendo no quando si dice la scienza sembra che si parli nella perfezione lui proprio diceva no la scienza è perfettibile perché perché migliora perché si evolve quando si fissa quando diventa un dogma e produce dei disastri produce delle tragedie produce la bomba atomica produce le leggi razziali produce mengele produce queste cose terrificanti alcune cose le vediamo anche adesso questo è l'incipit e l'incipit e allora io non sono molto molto d'accordo con quello che dice con massimo rispetto professor matteo bassetti che io conosco siamo negli stessi posti l'ho anche intervistato pubblicamente rispetto a un problema che è molto 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 importante oggi e che si sta affrontando tardivamente e e fortuna e fortunatamente ci sono anche quelli come lui che lo denunciano con forza però lui ha secondo me dato un'interpretazione motivazionale che contiene un elemento che non mi trova d'accordo cioè dice che queste violenze contro i sanitari oltre a tutta una serie di ragioni sono dovute anche al complottismo novax a una certa stampa che va dietro al complottismo novax no io non credo proprio non credo questo è diventa un po porre un dogma contro un altro dogma io non non ho nessunissima simpatia nei confronti dei novax proprio perché sono un dogma e molto spesso lo propongono violentemente professor bassetti ne sa qualcosa perché ha subito questa violenza ma io non credo che cioè io credo che questo sia forse dovuta anche giustamente alla sua incazzatura personale oltre che diciamo così medica nei confronti dei novax io penso che la scienza debba parlare con tutti ma questa è una mia opinione e comunque io credo invece che i motivi i motivi reali di questa il motivo più grosso di questo di questo questo attacco violento contro i sanitari medici infermieri di os stia in due in due trovi due ragioni principali la prima un imbarbarimento globale dei rapporti e dei rapporti sociali e dei rapporti personali succede anche nella scuola noi non c'entrano i professori di professori aggrediti dai genitori perché hanno messo un brutto voto al figlio e poi l'altro motivo è il sistema e sistema sanità io ne so qualche cosa perché perché il sistema burocratico che ha che provoca questa rabbia questa disperazione che va assolutamente fermata con ogni mezzo con ogni mezzo perché i medici il 99 per cento dei casi sono sono persone che sacrificano la propria vita per quattro soldi e mettono la propria vita a disposizione della vita degli altri a me l'hanno salvata quindi posso ben dirlo e mi hanno trattato benissimo e dal punto di vista umano e dal punto di vista medico quindi è il sistema burocratico e sistema delle prenotazioni sistema della maleducazione della scarsa professionalità di chi sta agli sportelli e da chi ha creato questo mostro di burocrazia in italia che va a colpire i cittadini anche nelle nelle loro nelle loro situazioni più delicate tutto questo che comunque va come dire assolutamente modificato ma contemporaneamente va estirpato con ogni mezzo questo attacco ingiustificato e la persona che stanno lavorando costando facendo un lavoro delicato dedicato alla nostra vita chiudo questo questo argomento e ne preannuncio un altro di cui ne occuperemo bene occuperà nei prossimi caffè è stata sconfitta la banda valanzasca o ha vinto la banda valanzasca fatto sta che giustamente il berrene è stato scarcerato e tino stefanini grande stile tino stefanini oggi dopo 50 anni di 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 galera è un uomo libero ma ne parleremo un uomo libero che sta utilizzando la propria libertà nel migliore modo possibile ne parleremo nei prossimi caffè buon martedì